Buonasera a tutti, innanzitutto vorrei volare una buona serata a tutti e una buona notte. Poi per il gruppo ticinese, il gruppo di San Marino, poi per Mario, Franco, la Gisella e tutti gli altri. Spero che avete visto il bonifico da un miliardo che è arrivato da pagare i nostri ragazzi giù in Albania e giù in Croazia. Per l'altro miliardo spero di riuscire a trovarlo tra domani, lunedì e martedì. Allora, visto che mi avete chiamato, volevo dirvi che a Firenze con Matteo Renzi è andata abbastanza bene la storia. Ci può dare una mano anche per montare quelle fabbriche giù in Croazia e in Albania e poi vedremo per la Germania e la Macedonia. Poi mi ha detto Renzi che mi porta a parlare con Giuseppe Conte e ci sarà anche Monti per tutto quello che abbiamo messo in ballo e per quello che stiamo lavorando. Vorrei dirvi questo. Se c'è qualcosa che non quadra in questi giorni lasciatemi lavorare perché non è facile trovare denaro, trovare soldi e poi devo dargliele anche indietro. Non è una questione così. Mi ha chiamato anche l'Udc, quel ragazzo che ha dato le dimissioni, quel senatore. Poi in settimana o quell'altra devo andare giù a Palermo perché mi ha detto che vuole parlarmi con me. Non so cosa vorrà dirmi ma penso che sia innocente. Però vediamo. Anche perché i fatti sono molto strani. In questi anni è sempre stata come lo pensavo io. Però certa gente corrotta come gli italiani, come ha detto anche Juncker che noi italiani. Però Juncker io ci vado a parlarci insieme perché so che non tutti gli italiani sono sporchi. Ci sono come di Juni onesto, brava persona, che sta lavorando per la felicità, per costruire fabbriche e per far lavorare tutti. Poi dopo per la Lombardia e altre persone molto probabilmente non ci vado neanche per Milano e tutto il resto. Io vado avanti con la mia strada. C'era anche Bonaccini, quello della Emilia Romagna. Allora, tra il Franco, Mario, la Gisella e i gruppi ticinesi, il gruppo di San Marino, vi prego, intanto i soldi vi li ho mandati e siamo a posto per adesso. Poi cercherò gli altri soldi. Vi prego di continuare in quella famosa c'era che stiamo costruendo. Andate pure con calma. È importante che quando saremo in partenza che ci siano tutto a posto. Poi dovrò andare in Olanda perché c'è un'azienda nuova che sta progettando dei forni a metano e forni a gas. Niente, ve lo dico subito in presidenza. Prima di fare delle cose voi fate solamente quello che io vi ho scritto. Se ci sono delle cose che non vanno, tubi che non vanno, spessori che non vanno, eccetera, voi segnalatemi tutto. Poi se riuscirò, io domani farò ancora 7-8 telefonate perché poi vi dirò quando riparto per venire da voi. Io oggi con questo che mi ha portato giù a Firenze, con questa bellissima jaguar, non posso dire niente. Ho parlato due ore con Matteo Renzi. Sono stato là nel suo grande palco scenico, adesso non mi ricordo come si chiama, la Leopolda. Sono stato là, la Leopolda. Ho mangiato un panino col prosciutto. Voleva che stessi là a dormire con lui. Mi aveva già ordinato un albergo a 5 stelle, ma gli ho detto con quello che mi ha portato là, gli ho detto andiamo a casa perché io ho tante cose da fare. E niente, con Matteo Renzi sono in contatto. Gli ho detto appena che mi libero delle mie cose, molto probabilmente lo chiamo e faremo un altro colloquio. Anche perché intanto qualcosa vi ho già dato. Se poi riesco in questi giorni a mandarvi gli altri soldi, così voi andate avanti a lavorare. Gli operai restano pagati, i ragazzi, e noi siamo a posto. E non ci abbiamo problemi. Dopo per Mario Monti e con la Fornero, molto probabilmente andrò a parlare anche con loro. Perché in quelle poche ore che sono stato là oggi c'è un programma veramente espansivo. Non ho letto tutto perché veramente dovevo stare là a dormire e stare là anche domani. Ma ho troppe cose da pensare, troppe cose da fare. Io devo pensare e devo capire cosa devo fare. Perché quelle fabbriche che stiamo facendo vorrei che partano, anche perché vorrei avere un acciaio buono. E poi se possibilmente avremo la possibilità di fare degli arrivamenti di maiali e delle cose speciali con questi maiali non del tutto italiani, ma con gli smacchiati. E con tutto quello che voglio prendere spaccheremo il mondo in Italia. Perché molto probabilmente noi non compreremo maiali in Cina, noi li rivenderemo alla Cina. E poi venderemo tanti maiali in Italia, anche a tutti gli allevatori, non agli allevatori, ma a coloro che fanno salame, cotecchino, coppe, mortadella e tutto il resto. Cioè faremo uno smacco e ci riusciamo. Quello che mi interessa è solamente adesso che questi gruppi, con questi soldi che siamo riusciti a raccogliere, di riuscire ad andare avanti e anche di avere questi prestiti, perché è una cosa veramente grossa. Poi per l'Italia sarà quello che sarà. Se ci sarà la fame si arrangeranno. Perché ho visto nella mia vita e nella mia esperienza che tanta gente sono sporca, ti parlano alle spalle, sputtano le persone e questo mi dispiace. Veramente. Io ho sempre parlato bene nella mia vita. Ho sempre cercato di avere degli amici sinceri. e se poi delle volte, tipo il discorso quando ero dirigente con la pontevichese, io a Felice gli voglio veramente bene, perché è stata una brava persona, se poi Dio, Signore, la Madonna, non ci abbiamo avuto quelli miracoli che ci volevano, purtroppo questo non è colpa né di Felice, né di Giovanni e di tutti quelli che c'erano allora. Perché purtroppo non è facile andare avanti cercando di dare, veramente creando lavoro, creando l'esperienza e tutto il resto. Io, come ripeto alla Gisella, che è la mia impiegata, e a Franco, che è lui il dirigente della nuova ceria che stiamo mettendo su in Albania, che ho fatto lui come capo responsabile, come amministratore delegato della nuova ceria, vorrei solamente dirgli, se c'è qualcosa voi segnate, poi se non ci sono quelle cose tipo roba, diciamo, urgente, voi mi chiamate e io vi rispondo. Perché se riesco in questi dieci giorni, dodici, non di più, perché devo farmi tutto il programma, non è facile. Sto cercando di, adesso una cosa abbiamo riuscito a tappare, speriamo che in questi giorni riesco a tappare anche la seconda cosa, e poi dopo riparto, niente, non ci sono problemi, niente, vi ringrazio, vi auguro veramente una buonanotte, do un bacio alla Gisella e ringrazio i miei gruppi, il gruppo Ticinese e il gruppo di San Marino, e poi arriveranno anche gli altri gruppi. Ringrazio Bonaccini per oggi che era con me, e poi per la Romagna speriamo di farla ripartire, creando lavoro, e visto che là stanno costruendo un altro Iper, che abbiamo dato i nostri aiuti, speriamo di trovare degli accordi con le cooperative rosse e tutto il resto, perché veramente ci troveremo degli accordi per far lavorare tutti in Romagna, creando lavoro, e magari far su anche degli allevamenti, visto che a Paenza ci sono degli allevamenti di Maiali, e in tante, a Modena, a Reggio Emilia, e in tanti posti lì ci sono degli allevamenti buoni, cercheremo di far vendere possibilmente a loro, se loro, le cooperative ci daranno una mano anche a noi. Non ci sono problemi, perché noi di Maiali ne abbiamo bisogno dappertutto. Questo lo so da persone molto importanti, l'importante è che ci sia una base di prezzo e una base di speranza. Se poi ci aiutiamo a vicenda, molto probabilmente sarà la cosa più bella del mondo. Auguro a tutti veramente una buona serata, ringrazio sempre un ragazzo che ho sempre voluto bene. Se poi dopo, non lo so cosa dire, non lo so, non posso dire niente, so che Manuel Gilberto è un bravo ragazzo, Omar lo stesso, e tanti altri so che sono bravi ragazzi. Non so cosa dire, se poi vorranno andare per il suo conto che abbatino. Io veramente non ne ho bisogno di certe persone. È vero che più siamo e meglio è, però in questo momento sto valutando delle cose e di andare anche insieme magari a Cinque Stelle, perché ho parlato anche insieme a Grido, oggi pomeriggio. Non lo so. Non so se la mia testa vada all'opposto di quello che avevo pensato in questi anni. Però se mi danno una mano, io darò una mano loro, senza altro. Non ci sono problemi. E per questa pandemia state molto attenti, perché ci sarà una terza, una terza, una quarta, una quinta, una sesta. Ci saranno ancora dei morti. Ah, io ci credo. Ah, io oggi ho fatto insieme anche un virologo. Veramente ci credo che tanta gente morirà ancora. Anzi, spero che muoiono tanti giovani, quelli che non capiscono niente. Buonasera a tutti e buon appetito e buonanotte. Ciao a tutti. E riguardatevi, perché il Covid-SARS-64 è in arrivo. Anche per voi. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti. 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 Grazie.